e bentornate amici con il playoff oggi parliamo di wrestling è una puntata speciale ragazzi non ve la dovete perdere e oggi con noi c'è la mia ragazza volevo dire che essendo che questa notte si è disputato un grande pay per view che fanno una volta all'anno cioè la royal rumble 2017 17esima edizione volevo farvi vedere il vincitore di questa royal rumble cioè la battaglia 30 uomini una rissa reale che si che si come si dice? che si non dice niente che si che si comunque ci tenevo a dire è una cosa importante prima di farvi vedere il video che manderemo tra poco secondo te la tua superstar prima del wrestling? ehm John Cena ragazzi John Cena ragazzi non John Cena John Cena che sono già detto eh quindi ricordatelo con John Cena e invece femmine nessuno eh femmine ragazze superstar donne non lo segue presto non lo segue però lo impariamo noi ragazzi poi ci mettiamo bene e ce lo impariamo però piaceva molto Eddie Guerrero Eddie Guerrero grande Eddie Guerrero vediamo comunque la mia ragazza consigli qual è la tua che è il tuo preferito John Cena a differenza da non John Cena John Cena e come ragazza? Nicky Bella cioè la tua moglie diciamo dai comunque invece il tuo dice il tuo il mio ovviamente The Undertaker una leggenda che se avete visto la Royal Rumble del 29 c'è il tuo cabo afenzi 9 ci sono stati Гorbeck, Brock Lesnar ed Undertaker che hanno fatto il loro debut alla Royal Rumble debutta hanno ridebuttato di nuovo dopo che Undertaker è stato infortunato è stanotte è successo è stanotte è successo che il vincitore è stato Randy Orton il video dove dovremo mandarlo tra qualche istante qualche si momentino manderemo il video e vedrete che cosa combina Randy Orton comunque ci sono stati altri quattro match ragazzi che poi lo vedrete voi e vi divertirete comunque ragazzi mandiamo in onda il video a posto del Diotton e con noi con il playoff abbiamo finito ci vediamo alla prossima ragazzi oggi era un'edizione speciale del racing speciale mi raccomando c'era anche la mia ragazza quindi ragazzi è tutto cliccate un bel mi piace per lei per noi soprattutto condividete questo video e iscrivetevi nel nostro canale ciao ragazzi ciao 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 ciao